non si trova niente dai dai che qualcosa verrà fuori ecco ecco sembra quello che fa per noi il progetto spazio comune ha avviato la mia stazione non scopre valorizzare volendo attività culturali e creativa carattere sociale dai dammi qua che c'è il numero bisogna chiamare subito ufficio spazio comune sono vilma dica abbiamo in mente un progetto da realizzare stiamo cercando locale da affittare non è per caso che ci può aiutare un momento questo qui accettiamo benissimo allora documenti carta d'identità codice fiscale ecco qua che velocità benvenuti spazio comune ah finalmente facciamo entrare un po d'aria però che chissà da quanto tempo era chiuso bello è bello sì ma ce ne sarà di lavoro da fare lì metteremo una pianta ornamentale eh ma il pavimento sarà da rifare la prenderemo un mobile e uno scaffale sì ma prima bisognerà intonacare qui al centro un tavolo spazioso una parete con tanti quadri di colore acceso sì ma buona lampada divanetti librerie tanti fiori apriremo i cittadini e wala mi dispiace ma non credo che da soli ce la potremmo fare no ecco ce l'abbiamo fatta capare con una spugna infissi rovinati vedrai che impegnandoci ma qua manca il soffitto ma il soffitto per non parlare dei cartoncessi la caldaia i sanitari i termovecchi i tubi rotti porte nuove alla fine e alla fine sarà tutto da verniciare beh almeno l'implante elettrico funziona mi reggi il sacco per favore? certo prego prego la porta è aperta ragazzi visto che eravate qua ho pensato di portarvi dei pasticcini no ma grazie signora segretaria non doveva ma cosa sono queste facce tristi? oh signora Vilma il fatto è che eravamo convinti di farcela da soli ma non credo proprio che riusciremo ad aprire per Natale ma capisco cari ragazzi spazio comune è una rete di associazioni una rete mi seguite? per farvi aiutare basta un semplice gesto e tutto può succedere a vedere al lavoro al lavoro al lavoro ciao ragazzi al lavoro pavimenti 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 sistemiamo tutti i nuovi pavimenti rifacciati dipingiamo 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 le pareti le bianche colorante le facciamo fatti scopa fatti scopa lunghi e corti noi montiamo fatti scopa la di scopa la 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 com'è possibile? è già tutto pronto tutto pronto tutto pronto consegniamo tutto pronto per cominciare grazie mille per l'aiuto non ce l'avremmo mai fatta senza di voi ok e adesso basta cantare che si mangia Grazie a tutti. Grazie a tutti.